Ciao, siamo qui con Giannelli a Gioardo, oggi autore di una tripletta. Cosa ne pensi? Dai, bene, è andata bene. Ci abbiamo provato, abbiamo lottato e è andata. Sui gol è bello, il terzo è bellissimo. Primi gol da Giannelli. Te li sei tenuti e tutti per una partita. Non l'avevo mai fatto. È andata bene così, dai. Bene, grazie.